Benvenuti cari telespettatori! Benvenuti cari telespettatori di Rossini TV per questa nuova edizione delle Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Vallefoglie e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia-rossinitv.it. E partiamo subito con la prima notizia parlando dell'iniziativa organizzata dal Comune di Tavuglia in occasione della giornata mondiale dell'acqua celebrata il 22 di marzo. Il sindaco Francesca Paolucci ha fatto visita alle scuole elementari di Padiglione e di Tavuglia cercando di sensibilizzare anche i più piccoli su questa preziosa risorsa. Vediamo il primo servizio. Anche quest'anno cerchiamo di dare il nostro contributo per sensibilizzare sia gli alunni delle scuole sia i cittadini ad un uso consapevole di questa preziosissima risorsa che a differenza di quello che si pensa non è infinita. E da qualche anno su questo tema la nostra amministrazione ha cercato di dare un contributo importante, chiaramente a livello locale e nel nostro piccolo. Questa mattina io e Laura Machini, il vice sindaco, siamo andate nelle scuole primarie, in particolare nelle classi prime alle quali abbiamo consegnato tutti gli alunni e le alunne una piccola pergamena per riconoscere loro che hanno contribuito a cercare di essere più consapevoli e ad avere comportamenti che speriamo in futuro siano sempre più incisivi sull'uso dell'acqua. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Io dico sempre nel nostro piccolo. Innanzitutto, da qualche anno abbiamo iniziato ad installare sul nostro territorio le casette dell'acqua. Ne abbiamo installate tre, a Babucce, qui a Padiglione e a Tavuglia. Vengono utilizzate abbastanza, soprattutto chiaramente dove ci sono più cittadini, Padiglione e Tavuglia. L'installazione delle casette dell'acqua sul territorio di Tavuglia è un intervento che proseguirà anche nel 2022. Infatti, entro l'anno verrà installata un'altra casetta dell'acqua nel territorio di Rosalzo. All'interno delle scuole, in tutte le scuole del nostro territorio, abbiamo installato degli erogatori. La nostra presenza all'interno delle scuole primarie è volta a far capire, a consapevolizzare i bambini che l'acqua del rubinetto è sana e si può utilizzare per bere tranquillamente. Qualche anno fa, sempre a tutti i ragazzi delle scuole, abbiamo già distribuito tante borracce proprio per poterle riempire e utilizzarle ovunque, in palestra, in parrocchia, ovunque al parco. Si prende l'acqua dalle casette dell'acqua, dagli erogatori, dal rubinetto di casa e la si porta con sé. L'Italia è uno dei paesi dove siamo tra gli ultimi a fare uso di acqua del rubinetto. Nel mondo è un comportamento normale, quotidiano, costante. Noi invece continuiamo a comprare acqua in bottiglia e chiaramente ognuno è libero di fare ciò che vuole, però il Comune di Tavuglia in questi anni ha contribuito anche qui a una riduzione notevole di emissioni di CO2 perché il fatto di poter utilizzare acqua del rubinetto nelle scuole e alle casette dell'acqua porta a non utilizzare bottiglie in plastica e porta quindi una riduzione di emissioni di CO2, uso di petrolio e tutto ciò che ne consegue. Quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte, cerchiamo di consapevolizzare tutti. E sempre in occasione della giornata mondiale dell'acqua, sabato 26 di marzo, il Comune di Tavuglia distribuirà bottiglie di acqua in vetro. L'incontro avverrà in tre punti del territorio comunale. Dalle ore 10, infatti, i cittadini potranno recarsi presso le casette dell'acqua di Babucce, Tavuglia e Padiglione, dove i volontari dell'Auser, insieme agli amministratori, consegneranno bottiglie in vetro fino ad esaurimento scorte. Iniziativa analoga, organizzata anche dal Comune di Montelabate, che sempre sabato 26 marzo dalle 15, presso le casette dell'acqua di Osteria Nuova e di Montelabate, distribuirà gratuitamente bottiglie di vetro. Un'azione da parte dell'amministrazione che ha lo scopo di incentivare i cittadini ad utilizzare le casette dell'acqua. Cambiamo ora argomento parlando della giornata nazionale della gentilezza. Un momento per raccogliere i nuovi nati che si è celebrata lunedì 21 di marzo. Per l'occasione al centro giovanile di Rio Salso si è svolto un incontro al quale erano presenti anche numerosi bambini. Vediamo. Oggi 21 marzo, non a caso è stata scelta questa data, perché con l'inizio della primavera vogliamo anche dare inizio a questa serie di eventi che hanno come scopo proprio di riportare in auge questa parola gentilezza. Una parola che tutti noi usiamo, ma che probabilmente poche volte utilizziamo nel vero senso della parola. L'anno scorso l'associazione Core Tamor ci ha contattati, come ha fatto con tutti i comuni d'Italia, per aderire alla loro associazione che ha lo scopo di portare la gentilezza non solo all'interno delle amministrazioni, ma anche all'interno delle scuole, delle associazioni sportive, associazioni culturali e quant'altro. Il sindaco Paolucci, insieme alla sua giunta a noi, ha trovato chiaramente terreno fertile, perché per noi questa deve essere di primaria importanza, è fondamentale. Molte volte ci si dimentica che alla base di tutto c'è la buona educazione, quindi qualsiasi cosa si faccia si deve mettere la buona educazione, tra cui appunto la gentilezza. La giornata della gentilezza ai nuovi nati e per i bambini nati nel 2021, chiaramente sono piccolini, quindi c'è questa marmaglia di ragazzini che non vedete ma che ci sono e fanno grande confusione e si è pensato di parlare con loro, di far capire loro che cos'è la gentilezza, perché secondo noi è importante da piccoli iniziare a comportarsi in una determinata maniera, che poi va bene dappertutto, va bene nella scuola, va bene quando fai sport soprattutto, va bene quando decidi di entrare, di scendere in politica, di entrare in un comune, amministrare un comune come facciamo noi, quindi è fondamentale insomma parlarne e viverla. Questo murales che stiamo costruendo insieme a Maria Bartolucci, che è la nostra artista di riferimento perché vive a pochi metri da qua, e abbiamo deciso di creare appunto la chiave della gentilezza e questa frase è molto bella, la gentilezza è la chiave per vivere bene insieme, praticala con amore. Il centro di aggregazione giovanile di Rio Salso è un centro che è aperto sia ai bambini che anche ai ragazzi, ed è aperto in due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il giovedì, siamo aperti ai bambini e ai ragazzi da 6 agli 11 anni, ma è anche rivolto agli adolescenti dai 12 anni in su ed è aperto in un lato serale il giovedì sera dalle 20 alle 22.30. Noi cerchiamo di offrire costantemente degli eventi, delle attività che possono essere attrattive per i giovani. Il centro infatti è suddiviso in diverse sale, abbiamo una sala di laboratori, una sala di aiuto compiti, diverse sale con ping pong, biliardino, una sala musica con diversi attrezzi, un computer da utilizzare e ultimamente abbiamo anche creato, installato un laboratorio, un'officina di riuso dove i ragazzi possono attraverso l'uso di attrezzi e materiali di recupero creare qualcosa di nuovo che altrimenti sarebbe stato buttato. Come vedete poi il centro di aggregazione ha anche ampi spazi, abbiamo il campetto da calcio, durante l'estate c'è la zona dell'orto, delle erbe aromatiche, un piccolo stagno con degli animali ed in generale cerchiamo di offrire un luogo dove i ragazzi e i giovani possano stare insieme. Infatti in una giornata come questa per noi è importante trasmettere il valore della gentilezza in quanto con le nostre iniziative cerchiamo di offrire uno spazio dove i ragazzi possano imparare a stare bene insieme e ad essere gentili e lo si diventa soltanto stando insieme con gli altri. E alla seconda giornata nazionale della gentilezza ha aderito anche il comune di Vallefoglia che ha ufficialmente dato il benvenuto ai 118 nuovi nati nel 2021. Per l'occasione è stata realizzata una pergamena personalizzata in segno di benvenuto da consegnare alle nuove nascite dello scorso anno, delle quali 67 sono femmine e 51 sono maschi. Nella pergamena è raffigurato come simbolo la chiave della città di Vallefoglia con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. E a Vallefoglia continuano le iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino attualmente sotto l'assedio dei militari russi. Lunedì pomeriggio si è infatti svolta una fiaccolata partita dalla chiesa di Santa Maria Assunta e conclusa in Piazza dei Quartieri. Oltre ai numerosi cittadini che hanno partecipato, a questo momento di unione e fratellanza con i cittadini ucraini era presente anche l'amministrazione del comune di Vallefoglia, la consigliera regionale Michaela Vitri e il parroco di Montecchio Marco Di Giorgio. Alla fiaccolata hanno preso parte anche alcuni profughi ucraini, ospiti di famiglie residenti nel territorio comunale a cui il sindaco Ucchielli si è rivolto facendo sentire la vicinanza dei cittadini di Vallefoglia. Roberto Vagnini, direttore della banda di Colbordolo e Claudio Sanchioni, insegnante di Clarinetto alla scuola media di Pian del Bruscolo, hanno accompagnato la cerimonia riproducendo un brano popolare ucraino suonato in questi giorni in un bunker di Kiev. E sempre a Vallefoglia, nella giornata di lunedì 21 di marzo, l'amministrazione comunale ha organizzato in mattinata un'iniziativa per ricordare la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Palmir Ucchielli, la dirigente scolastica della scuola media di Pian del Bruscolo, Daniela Pasciuti e gli assessori Torcolacci e Calzolari, i quali hanno depositato un mazzo di fiori presso il polo scolastico di Bottega intitolato a Carlo Alberto dalla Chiesa, Persanti Mattarella, Pio La Torre e Attilio Romanò, quattro grandi uomini che hanno perso la loro vita per colpa della mafia. Spostiamoci ora a Gradara dove nella giornata di sabato 26 di marzo è in programma l'open day all'asilo nido La Tana dei Cuccioli. Dalle 9.30 alle 11.30 le educatrici e il personale faranno visitare l'istituto alle famiglie che si recheranno mostrando loro i diversi servizi che presenta la struttura. E concludiamo il nostro Tg parlando di sport e partendo dalla pallavolo. La Megabox Vallefoglia è infatti uscita trionfante dalla trasferta della temibile Scandici trionfando per 3-7 a 2, portandosi ora a quattro punti dalla zona retrocessione. Due punti preziosi per la squadra di coach Bonafede che ora si trova davanti agli ultimi tre impegni stagionali per cercare di ottenere il prima possibile la matematica salvezza. Passiamo ora al calcio locale con l'Atletico Gallo che è stato sconfitto in casa per 2-0 dall'Atletico Azzurra Colli. vedendosi ridurre a quattro punti il suo distacco dalla zona play-out. Nel campionato di promozione è arrivata un'ottima risposta da parte del K-Sport Montecchio che dopo 2-0 a 0 di fila è riuscito a raccogliere tre punti vincendo 2-1 contro la Osimo Stazione. Sconfitta rotonda invece per il Valfoglia che ha subito un netto 3-0 dal Gabice Gradara. In prima categoria si è concluso sul punteggio di 0-0 il match casalingo per l'Osteria Nuova che sabato ha ospitato sul proprio campo la Mercatellese. Vola invece l'Atletico Tavuglia che sul campo del Fermignano si è giudicato la partita per 2-1. Due sono ora i punti che separano il Tavuglia dal primo posto in classifica attualmente occupato dalla Cagliese. E con le notizie sportive si conclude questa nuova edizione delle Valfoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo primo di aprile e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.